Ok, oggi volevo proporvi questa parte che sul libro di testo, come ho detto prima, non c'è, ma secondo me è un principio importante perché è unificante, semplifica la visione dell'ottica ed è il principio di Fermat. Allora, torniamo un attimo indietro e rifocalizziamo la nostra attenzione sulla riflessione della luce da parte di una superficie lucida, tipicamente uno specchio. Abbiamo già visto che se il punto P emette un raggio di luce, questo si riflette sullo specchio in modo tale che il raggio incidente fa con la retta normale del punto di incidenza O un angolo θI che è identico all'angolo che fa il raggio riflesso, quindi l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Questa legge è molto semplice, era già nota in tempo antico, già è citata da Euclide nel suo trattato di ottica e anche da Ptolemeo. E la esaminiamo adesso da un altro punto di vista per introdurre proprio il principio di Fermat. Ora, qui con GeoGebra ho fatto un paio di figure e immaginate che la rete verticale, questa, sia lo specchio. Qui, tratteggiata dal punto F, c'è la normale nel punto E che è il punto di riflessione, il punto in cui arriva il raggio emesso da A che si riflette in E e poi arriva in B' che qui diciamo per il punto immagine. La legge della riflessione dice che l'angolo A e F, che qui viene indicato con alfa e misura in questo caso 36,5 gradi circa, misura quanto l'angolo F e B'. Questa è la semplice enunciata della legge di riflessione. Ma immaginate di prendere il simmetrico di B' rispetto allo specchio. Quindi B' si specchia in B. Se io fossi in B e vedessi A, cioè se sono qui e vedo immaginare, la vedo come, anzi in A in B, la vedo come se le immagini fossero esattamente in B. Quindi è proprio una simmetria speculare. Non so se l'avete visto, è una cosa che si fa, una trasformazione che si studia nella geometria del biegno. La simmetria rispetto alla retta S, detta anche simmetria speculare, manda B in B' in modo tale che il punto B e B' ha come punto medio un punto che giace proprio sull'asse. Interseca l'asse a 90 gradi e il punto medio sta sull'asse. Questa trasformazione da B a B', cioè la simmetria assiale, è un'isometria, cioè conserva tutte le misure. In particolare la lunghezza di B ed E, B' E, è identica a quella di B' E. E l'angolo B' E' E' D è identico all'angolo B' E' D. Per cui, essendo F E perpendicolare allo specchio, allora l'angolo α e l'angolo β sono congruenti per la legge di riflessione. Inoltre, l'angolo supplementare a β, cioè B' E' D, fa con β un angolo retto. Ma l'angolo B' E' D è congruente all'angolo D' E' B. Quindi, in totale, l'angolo A' E' B è un angolo di 180 gradi, perché è il doppio di l'angolo E' F' E' D. Quindi, detto in parole povere, A' E' E' B sono allineati. Quindi, quello che ottengo facendo la simmetria speculare di B' E' in E' B è un tratto diretto, è un tratto rettilineo. D'accordo? Quindi i punti A, sorgente dell'immagine, E, punto di riflessione, E' B, simmetrico di dove si forma l'immagine B' sono allineati. Ma il tratto rettilineo è il tratto di lunghezza minima. Quindi, la distanza di A dal punto B è quella più corta che posso pensare di percorrere se devo andare da A a B. E quindi anche quella di tempo minimo. Però, la distanza A-B posso pensarla come A-E più E-B. Cioè, questo tratto A-E più E-B. Tenete conto che E sta sulla stessa retta di quella che passa per A-E-B. Ok? Ma siccome E-B è lungo come E-B' per simmetria assiale, allora la distanza A-E-B è anche uguale alla distanza A-E più E-B. Cioè, A-A-E-B'. Per cui, la distanza A-E-B, essendo la distanza minima, lo è anche A-E-B'. Per cui, la legge di riflessione, cioè il fatto che l'angolo di eccedenza e l'angolo di riflessione sono identici, è riassumibile dicendo anche che il percorso fatto dalla luce durante il processo di riflessione è il percorso di tempo minimo che la luce può trovare andando da A a B' passando, toccandola allo specchio. Quindi, che l'angolo di incidenza sia identico all'angolo di riflessione è compatibile, anzi è coerentemente interpretabile, dicendo che il percorso della luce è quello di distanza minima d'accordo, ma anche e soprattutto di tempo minimo. Quindi, la luce sceglie un criterio di minimo per percorrere la distanza, il percorso che la separa da A a B dovendo passare per lo specchio. Certo, alcuni raggi andranno direttamente da A a B' ma quegli riflessi che poi arrivano in B sono quelli per i quali il tragitto è tale che l'angolo che formano con la normale allo specchio è identico a quello di riflessione. Questa proprietà, cioè il fatto che il tragitto da A a B' è quello di tempo o distanza minima, era già enunciato addirittura nel trattato di ottica di Erone e di Alessandria che dimostra questa proprietà proprio utilizzando i teoremi di geometria che vi ho appena, le proprietà di geometria sulla simmetria assiale che vi ho appena proposto e descritto. D'accordo? Quindi il criterio di minimo è un criterio importante. Qualunque altro punto, immaginate per esempio che la luce passi per G, ok? Se il raggio che si riflette in G non va in B', ok? Perché se andasse in B' l'angolo di incidenza e quello di riflessione sarebbero diversi. D'altro canto il percorso A, G, B', come è facile intuire dal fatto che A, G, B è lungo come A, G, B', non è più quello più corto possibile. Per questa ragione qualunque altro punto si riflette sullo specchio da un'immagine di riflessa che non passa per B'. O se volete viceversa, l'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione proprio perché la luce partendo da A si riflette sullo specchio arrivando nel punto B proprio nel punto tale che l'angolo di incidenza uguale all'angolo di riflessione datosi il criterio del minimo percorso possibile. Qualunque altro corso, qualunque altro punto G io scelga sullo specchio, ok, darebbe una distanza totale A, G più G, B', più lunga di quella che in realtà la luce sceglie, più lunga del percorso dettato o determinato dal criterio che abbiamo appena visto, cioè angolo di incidenza uguale all'angolo di riflessione. quindi la legge della riflessione è, tra virgolette, interpretabile con un principio di minimo, cioè l'angolo di riflessione è uguale all'angolo di incidenza perché in questo modo la luce procede lungo un percorso che è quello di distanza minima o se preferite anche di tempo minimo, dato che il tempo per andare da A a B' è dato dalla lunghezza del percorso diviso la velocità della luce che è la stessa nella data, nel raggio di incidenza e quello di riflessione. se è qua chiaro questo punto vediamo cosa succede nel caso invece della rifrazione che cosa è il fenomeno della rifrazione? beh, se immaginate di avere qui uno specchio non perfettamente riflettente ma parcialmente almeno trasparente allora parte della luce come vedete nell'immagine qua sotto viene riflessa non so se riuscite a vedere il raggio riflesso parte e viene rifratta cioè prosegue il suo cammino all'interno del mezzo che sta dall'altra parte della superficie che è speculare quindi nel vetro qui nella figura in alto a destra i due mezzi sono indicati con due colorazioni diverse una è bianca mezzo 1 l'altra è azzurrina mezzo 2 e di fatto la prosecuzione del raggio incidente che arriva da P si interseca la superficie riflettente in O e poi prosegue verso Q forma con la normale angoli diversi per quale ragione? beh, perché essenzialmente la luce viaggia a velocità diversa nei diversi mezzi ok? e la differenza tra gli angoli di incidenza e quello di rifrazione θ1 e θ2 è legata alla diversa velocità della luce nei due mezzi questa diversa velocità viene caratterizzata da un numero che si chiama indice di rifrazione è indicato normalmente dalla lettera N e quindi in mezzo qui a sinistra quello con lo sfondo bianco ha un indice di rifrazione N1 quello a destra ha un indice di rifrazione N2 ok? questo fenomeno quello della rifrazione cioè del diciamo così il fatto che la luce percorre non un segmento dritto ma una spezzata è quello che normalmente ci mostra ad esempio se immergiamo un cucchiaino dentro un bicchiere pieno d'acqua vediamo questo come se fosse spezzato perché anziché vederlo dritto noi vediamo i raggi della luce che vengono dalla parte sommessa del cucchiaino come se questo fosse che l'occhio involontariamente inconsciamente prolunga i raggi che il nostro occhio è abituato a crearsi un'immagine del mondo che sfrutta l'idea semplice del fatto che la luce viaggia per segmenti rettilinei quindi se io vedo il raggio che viene da questa direzione mi immagino che il cucchiaino si trovi qui non nel punto Y non nel punto X quindi di fatto lo vedo come se fosse spezzato che questo è un effetto ottico diciamo ok? quindi lavoriamo in modo analogo al precedente anche qui ho usato GeoGebra per visualizzare questo e immaginate in questo piano cartesiano l'asse delle X che rappresenti la superficie di separazione tra due mezzi superiormente abbiamo il mezzo 1 immaginate se volete l'aria su inferiormente il mezzo 2 immaginate se volete un vetro e il punto in cui il raggio di luce partendo dalla sorgente A incide sulla superficie nel punto F si rifrange e prosegue verso il punto B ok? nel mezzo 1 nell'aria la velocità della luce sarà V1 che è C fratto N1 dove N1 è proprio l'indice di rifrazione del mezzo 1 nel mezzo 2 la velocità V2 sarà C diviso N2 quindi se il mezzo 2 questo qua sotto ha un indice di rifrazione più grande allora nel mezzo 2 la velocità sarà più piccola perché divido C per un denominatore più grande quindi ripeto più grande l'indice di rifrazione più lenta va la luce in quel mezzo d'accordo? questa è una previsione della teoria ondulatoria perché come avemmo visto anche nella lezione del professor Sonego la teoria corpuscolare quella proposta da Newton prevedeva che in un mezzo più denso quindi con rifrazione più grande la velocità della luce fosse più veloce invece questo è contraddetto da quanto si può osservare ok andiamo avanti mentre qui è indicato ad esempio il tratto rettilineo che avverrebbe se la velocità della luce fosse la stessa in entrambi i mezzi se la luce segue questo percorso AFB ok che cosa dice la legge della rifrazione? beh dice che se alfa è l'angolo che il raggio incidente forma quella normale e beta è l'angolo che il raggio rifratto forma sempre quella normale allora vale questa proprietà N1 cioè indice di rifrazione del mezzo 1 per il seno dell'angolo che il raggio incidente forma quella normale vale quanto N2 per il seno dell'angolo che il raggio rifratto forma nel mezzo 2 detto in altre parole il prodotto tra indice di rifrazione e seno dell'angolo è lo stesso nel mezzo 1 e nel mezzo 2 qui in teoria anziché usare alfa e beta avranno potuto usare seno alfa 1 e seno alfa 2 ok dove alfa 2 è l'angolo in mezzo anche perché il percorso è reversibile cioè se io prendo una sorgente di luce e la metto in B questa si rifrange in F e il raggio prosegue verso A esattamente con lo stesso percorso cioè il cammino ottico è reversibile ok questa legge è compatibile con la se al posto di N1 metto C diviso V allora e poi semplifico per C ottengo che il seno dell'angolo diviso la velocità della luce in quel mezzo è lo stesso nel mezzo 1 e nel mezzo 2 cioè posso benissimo scambiare la prima regge che avete qui con la seconda il rapporto tra seno dell'angolo diviso la velocità della luce in quel mezzo è lo stesso per entrambi i mezzi ragioniamo in termini di tempi di percorrenza allora la luce per andare da A a B passa per F e quindi il tempo per andare da A a B è uguale a quello per andare da A a F più quello per andare da F a B ok ma il tempo per andare da A a F è la lunghezza del segmento A a F diviso V1 il tempo di percorrenza è distanza da percorrere diviso velocità e quindi il tempo per andare da F a B sarà F a B diviso V2 ok ora per dimostrarvi che questo fatto cioè la legge di Snell come si chiama storicamente anche se in realtà è una nota molto prima è una legge che comporta un principio di minimo ok sarebbero una matematica che si fa l'anno prossimo ok si può esprimere il tempo per andare da A a F più quello da F a B in funzione della posizione di F e si vede che la posizione di F è determinata dalla legge di rifrazione cioè tale che N1 sen alfa sia uguale a N2 sen beta è proprio quella che comporta il percorso di tempo minimo quello per cui l'andata l'andata A F più F B è il percorso non di distanza minima attenzione perché il percorso di distanza minima in questo caso sarebbe quello diretto lungo da A a F lungo il segmento rettilineo ma è il percorso di tempo minimo ok qui in questo caso il percorso di tempo minimo non coincide con quello di distanza minima perché? perché le velocità non sono le stesse se nel mezzo 1 nel mezzo 2 la velocità fosse la stessa allora è chiaro che il tempo di il percorso di minima lunghezza coincide con quello di minimo tempo ok ma non non è così nel caso in cui le velocità siano diverse nei due ambienti in quel caso il tempo minimo coincide con un percorso che è una spezzata dove sarà più corto il tragitto dove la velocità è più piccola ok per fare in modo che il tempo totale sia il minimo ok è chiaro che immaginate idealmente di andare da A a F lungo il tratto rettilineo ok allora il percorso da A al punto di intersezione con la superficie ok ha un tempo che è più piccolo di quello dal punto di superficie all'altra e quindi questo il totale del tempo aumenta ok questo si può ripeto dimostrare utilizzando uno strumento matematico che imparerete l'anno prossimo per farlo invece ho fatto usando GeoGebra proprio uno uno schema un foglio di calcolo dove vedete qui sopra la coordinata del punto P attraverso il quale la luce passa quello che è un po' F e se lo sposto vedete qua sotto il tempo il tempo per andare da A F più F B man mano che si avvicina al punto F diminuisce fino ad avere un valore minimo attenzione qui c'è il punto di rettilineo vede che non è il minimo se vado avanti diminuisce ancora raggiunge il valore 4 in F e poi andando avanti torna a aumentare quindi la legge di Snell della rifrazione cioè N1 Snell uguale a N2 Senn Beta è proprio quella che fa sì che il tempo impiegato della luce per andare dal punto A nel mezzo 1 al punto B nel mezzo 2 sia quello che dura di meno il tragitto più veloce quello più breve qualunque altro punto io prenda come punto intermedio cioè se considero la rifrazione in qualsiasi altro punto e quindi una rifrazione con una legge diversa da quella N1 sen alfa uguale N2 sen beta allora il tempo impiegato sarebbe più grande quindi anche qui vale un principio di minimo del tutto analogo a quello della riflessione ok e questo è infatto notevole un problema analogo ok è quello del bagnino il problema del bagnino scusate un secondo ecco qua ok immaginate di avere un bagnino sulla spiaggia in questa posizione che vede il bagnante in difficoltà nella posizione più in acqua ok allora è chiaro che il bagnino cercherà di andare dal bagnante nel tempo più veloce possibile nel tempo più piccolo possibile però la sua velocità sulla spiaggia è sicuramente più grande di quella in acqua in acqua è più lento perché noterà meno velocemente di quanto riesce a correre sulla spiaggia e quindi il tempo se andasse dalla sua posizione al bagnino lungo un tratto rettilineo un unico tratto rettilineo non una spezzata ci impiegherebbe di più deve scegliere un punto in cui passare dalla sabbia all'acqua che renda minimo il tempo di percorrenza e si può dimostrare nello stesso modo in cui si può fare per ricavare la legge di rifrazione che deve comportarsi proprio come la luce cioè deve scegliere un punto nel quale fa sì che il seno dell'angolo che il suo percorso fa con la normale diviso la velocità che ha sulla sabbia sia identico al seno dell'angolo che fa il suo tragitto fa quando è in acqua diviso la velocità in acqua o se preferite lo pseudo indice di rifrazione del bagnino sulla spiaggia per il seno dell'angolo di incidenza deve essere uguale al numero dell'angolo del valore dell'indice di rifrazione se il bagnino fosse la luce in acqua per il seno dell'angolo di rifrazione in acqua principio proprio identico 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 se volete quindi il bagnino se vuole salvare vuole guadagnare tempo deve comportarsi come la luce questa legge questo principio che riesce a riquadrare in un unico schema il comportamento della luce sia per quanto riguarda il fenomeno della riflessione che della rifrazione scusate è stato formulato nella prima metà del diciassettesimo secolo da Piardo Efermà che è questo signore qui nell'immagine in alto a destra e il quale l'ha spesso in questo modo di tutti i possibili cammini che un raggio di luce può percorrere per andare da un punto a un altro esso segue il cammino che rende il tempo di percorrenza più breve possibile e questo ovviamente vale sia che come nel caso della riflessione i punti di arrivo e di partenza siano dallo stesso lato dello specchio e quindi in quel caso la velocità del raggio di incidente riflesso è la stessa solo che i due angoli quindi di incidenza e di riflessione hanno lo stesso valore proprio per rispettare questo criterio di minimo sia nel caso che i due punti di partenza e di arrivo siano uno in un mezzo e uno nell'altro nei quali mezzi la velocità della luce sarà in generale diversa a seconda della natura del mezzo e quindi la percorrenza in quel caso non sarà più data da un unico tratto rettilineo ma da una spezzata e la forma di questa spezzata è proprio quella che rispetta o discende o si può ricavare se preferite da questo criterio di minimo la luce obbedisce alla legge della rifrazione cioè n1 sen alfa 1 uguale a n2 sen alfa 2 proprio in virtù del fatto che quello è la relazione tra se volete velocità e angolo che rende minimo il tempo di percorrenza ok ci sono domande è tutto chiaro e questo è il penneoma di principio di ferma bene torniamo a la nostra discussione sull'ottica abbiamo già visto di questa presentazione la parte iniziale e quindi cerco di andare direttamente al punto dove ci eravamo interrotti la rifrazione che avevamo già visto la fibra ottica l'endoscopio la luce i colori la teoria di newton l'avevamo già vista e eravamo arrivati se non ricordo ma l'arcobaleno anche eccola alla natura ondulatoria della luce d'accordo questo è uno degli esperimenti che mostra questo fatto che rileva le proprietà ondulatoria della luce l'esperimento di yang è uno dei più importanti in attrazione della fisica ma andiamo di arrivarci per gradi allora consideriamo un'onda trasversale come la luce e il concetto di fronte d'onda ora vi ricordate quando abbiamo visto la formulazione dell'equazione della forma dell'onda ok abbiamo visto il concetto di fase il concetto di fase che in realtà viene preso in prestito dal concetto di angolo quando abbiamo visto il moto di oggetti che molto periodico tipicamente il moto circolare la posizione di un oggetto che ruota con la circonferenza viene proiettata su un diametro ok ed è diventa una funzione sinusoidale o po sinusoidale dell'angolo quell'angolo si chiama fase avviene lo stesso si può usare lo stesso formalismo anche nei fenomeni periodici quando ci sono oggetti o grandezze che oscillano nel tempo che è tipicamente quello che succede per esempio in un'onda non tutte le oscillazioni sono armoniche d'accordo le più semplici lo sono ma insomma sfruttiamo quelle come esempio e nell'oscillare nell'oscillazione di che ne so un mezzo elastico che ne so una corda tesa attaccata a due estremità allora il punto della corda che oscilla segue un moto periodico un moto idealmente armonico e il punto durante un moto quindi di andata e di ritorno il punto considerato in moto segue questa traiettoria periodica e può essere espresso come funzione sia dello spazio che del tempo mediante funzioni periodiche tipicamente il seno e il coseno ora l'argomento del seno e del coseno che interviene nella forma dell'onda è necessariamente un angolo ok e l'angolo che è legato sia alla posizione che al tempo prende il nome di fase ok ora se ho un'onda nello spazio per esempio un'onda piana come avete qua sotto ok qui vengono segnati per esempio in scuro i punti più bassi e in chiaro i punti più alti immaginate un'onda di superficie nel mare ecco punti che hanno la stessa fase cioè si trovano nelle stesse condizioni per esempio tutti i picchi che è questo sono detti fronti d'onda cioè sono l'insieme dei punti che hanno la stessa fase quindi se un'onda è piana come nel caso più a sinistra i fronti d'onda sono delle rette ok perpendicolari tra l'altro alla direzione di propagazione qui se volete la vedete di taglio e qui di profilo ok questa nostra onda nel caso delle onde piane per esempio immaginate di avere un fronte d'onda che è una retta qui questa freccia nera rappresenta la direzione di propagazione dell'onda e vale una considerazione molto importante che è la seguente per posso comprendere il come si comporta l'onda immaginando che cosa immaginando che ogni punto di questa retta dove si trova appunto tutti i punti a fase costante ok ogni punto dove mi arriva l'onda può essere immaginato come la sorgente cioè o il punto di emissione di altrettante onde sferiche cioè che si propagano in modo isotropo in tutte le dimensioni in tutte le direzioni se poi considero qui gli hanno distinti per far sì che si possano vedere punti vicini quindi questo punto emette un'onda sferica questo anche il fronte d'onda successivo dopo per esempio un certo istante di tempo delta T lo tengo considerando le tangenti a tutti i fronti d'onda emessi dai punti del fronte d'onda precedente e di nuovo è facile dimostrare che ottengo se il fronte d'onda di arrivo era un piano o una retta ottengo un'altra retta in questo modo posso costruire la propagazione dell'onda questa idea si chiama principio di Huygens Christian Huygens uno forse il principale fautore della teoria ondulatoria della luce quindi ripeto la luce o mi stiamo a stare la luce dopo dimostreremo che è un'onda un'onda si propaga nello spazio come? punti con la stessa fase si chiamano fronti d'onda per esempio tutti i punti dove ci sono dei massimi o tutti i punti dove ho dei minimi ogni punto nel quale l'onda arriva può essere immaginato come la sorgente di una nuova onda e il fronte d'onda della nuova onda lo ottengo come l'inviluppo si chiama cioè la curva che è tangente a tutti i fronti d'onda emessi dai punti che stanno sul fronte d'onda precedente è più facile vederlo che dirlo basta guardare questa immagine d'accordo? perché questo principio ci serve? beh immaginate di andare a prendere il fenomeno della riflessione quella che abbiamo appena visto quindi qui abbiamo i fronti d'onda che vedete come rette verticali sono fronti d'onda di un raggio incidente che arriva orizzontalmente lungo una direzione di propagazione che va da destra a sinistra incide su questo specchio inclinato quindi ogni punto dello specchio inclinato è un punto dove arriva il fronte d'onda emesso dei punti sul fronte d'onda di incidenza e quindi produce una un'onda riflessa che si propaga come questa freccia diretta verso il basso questo è un angolo a 45 gradi quindi se arriva un'onda un raggio di luce orizzontalmente da sinistra a destra lo specchio lo riflette dall'altro verso il basso questo è perfettamente interpretabile in termini di principio di Huygens ok fin qui tutto sommato dice beh potevo anche farne a meno però questo interviene in modo abbastanza importante quando invece vado a esaminare effetti come la diffrazione immaginate qui nella figura a sinistra avete un muro con una porta la stanza a sinistra è illuminata quella a destra no la porta normalmente nella stanza la porta a dimensioni molto più grandi di quelle della lunghezza d'onda della luce ok che sono circa centinaia di nanometri quindi 10 alla meno 6 10 alla meno 7 metri quindi molto piccole quindi se gli ostacoli con cui ho a che fare sono di dimensioni molto grandi molto più grandi della lunghezza d'onda ok posso benissimo affermare che la luce si comporta come se fosse fatta di particelle perché qui ho zone di luce e zone d'ombra e non ci sono dubbi che la luce si propaga in linea retta ok ma se per esempio faccio la stessa considerazione col suono ricordo dove le onde acustiche hanno una lunghezza d'onda molto maggiore addirittura paragonabile con quella della porta allora qui il fenomeno della diffrazione entra in gioco cioè se arriva sulla porta un fronte d'onda piano quando arriva sulla porta ogni punto che sta sulla porta posso considerarlo come sorgente di un'altra onda e quindi siccome le onde sono sferiche è chiaro che si propaga anche dove se la propagazione fosse solo rettilineo non dovrebbe andare per cui anche se sono dietro la porta dietro il muro riesco a sentire il suono lo stesso perché perché si verifica il fenomeno della diffrazione cioè il fenomeno secondo il quale un'onda riesce ad aggirare tra virgolette gli ostacoli basta che questi siano di dimensioni comparabili alla sua lunghezza d'onda d'accordo quindi basta fare l'esempio qui la dimensione dell'ostacolo è importante ostacolo in questo caso si fa per dire perché in realtà la porta è l'unico barco aperto l'ostacolo in realtà è il muro ma insomma se ho oggetti che hanno dimensioni dell'ordine comparabili con quelli della lunghezza d'onda allora si verifica il fenomeno della diffrazione che altrimenti non si verificherebbe se come in questo caso le dimensioni della porta sono molto maggiori di quelli della lunghezza d'onda della luce come in questo caso della figura a sinistra allora la diffrazione non la vedo non la noto per vederla dovrei avere oggetti una porta molto più piccola quindi una fenditura molto 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 sottile ok ecco qui è il caso analogo qui abbiamo fronti d'onda paralleli questa tra una riga blu e la successiva c'è la lunghezza d'onda che arrivano vedete più le dimensioni della porta si riducono più è evidente l'effetto di diffrazione in modo tale che ad esempio quando la cosa è molto piccola come approssimabile a un punto molto più piccolo della lunghezza d'onda o come quello che emerge dalla fenditura dalla porta è proprio un'onda sferica un'onda di tipo che si propaga in tutte le direzioni ok in questo modo ok se ognuna di quelle fenditure si si produce si produce un'onda sferica a sua volta che si propaga nella regione oltre l'ostacolo allora se ne ho più di una è chiaro che queste fanno interferenza ok qui vedete qui in alto una figura che rappresenta due sorgenti d'onda sferiche una in alto e una più in basso e sono sovrapposte ai loro fronti d'onda e dove una zona chiara è sovrapposta a una zona scura lì ho interferenza distruttiva ok dove due zone chiare sono sovrapposte e l'interferenza costruttiva come è raffigurato nella figura qua sotto ma insomma questa è una cosa che abbiamo già visto quando abbiamo visto le proprietà generali dell'onda quindi un modo per visualizzare per indicare le 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 proprietà ondulatorie della della luce o comunque di una portugazione ondosa è proprio quello di sfruttare l'interferenza immaginate appunto di avere come abbiamo nella figura di prima due sorgenti che sono in realtà dei fori su una parete su una su uno stacco su uno schermo e da queste due fori emergono due onde che si propagano da S1 e da S2 e siccome il loro cammino 1R1 e l'altra R2 hanno lunghezza diversa possono verificarsi dei punti sullo schermo a destra i punti P dove le due onde arrivano o dove i picchi corrispondono ai picchi o interferenza costruttiva dove i picchi corrispondono ai minimi i picchi di un'onda corrispondono ai minimi dell'altra onda avranno interferenza distruttiva ok e questo dipende ovviamente siccome arrivano lì insieme dipende dal percorso spaziale cioè della distanza R1 e R2 se la differenza tra i due percorsi è un multiplo pari di mezza lunghezza d'onda ok perché perché se due onde differiscono di mezza lunghezza d'onda allora i picchi di una coincidono con le valli dell'altra se invece differiscono di multipli di mezzi lunghezze d'onda allora le valli di una coincidono con le valli dell'altra i picchi di una con i picchi dell'altra e quindi avrò interferenza costruttiva per cui ho interferenza costruttiva in tutti i punti in cui la differenza tra i due percorsi R1 ed R2 sono multipli interi della lunghezza d'onda con n che va da 0 più o meno 1 più o meno 2 eccetera se invece la differenza di percorsi è un multiplo dispari di mezze lunghezze d'onda ok allora l'interferenza sarà distruttiva avrò zone di buio o comunque zone dove l'onda ha dei minimi ok questa idea è stata messa in atto da Thomas Young un medico inglese che però aveva molti interessi come avete già sentito nella conferenza del professor sonico e quello che l'importanza dell'esperimento è stato questo perché se la luce fosse fatta di particelle di corpuscoli ok illuminando in questo caso un schermo con una doppia fenditura avrei dovuto avere sullo schermo l'immagine delle due fenditure come quello che avrei quando nell'esempio che abbiamo visto quando la luce colpisce una porta aperta oltre la porta aperta ho un'immagine della porta aperta quindi un percorso rettilineo e niente più invece quello che si osserva è proprio una figura di interferenza cioè zone dove la luce è più intensa altre dove è del tutto assente intervallate l'una dall'altra e questo corrisponde proprio alla differenza tra delle fasi nei due nei raggi di luce che arrivano sono delle due assorgenti ed è interpretabile appunto come un effetto di interferenza cosa che nel moto delle particelle corpuscolari non c'è interferenza è un fenomeno caratteristico delle onde non esistono interferenze tra particelle puntiformi o massicce comunque di tipo che non siano onde interferenza significa ciò che la produce è un'onda altrimenti non ci sarebbe ok e in base a quanto già visto si possono anche calcolare dove in base alla lunghezza d'onda di quella che arriva alla distanza tra le due fenditure e la distanza fenditura e schermo posso calcolare dove avrò i massimi e dove avrò i minimi oppure viceversa se misuro la posizione del massimo e del massimo successivo o tra massimo e minimo e conosco la distanza tra le due fenditure S1 e S2 la distanza tra lo schermo delle fenditure e lo schermo grigio in questo caso posso stimare e calcolare qual è la lunghezza d'onda della luce che arriva ok qui c'è un filmato che avevo registrato proprio per mostrarvi questo qui abbiamo un generatore di onde a sinistra onde piane che colpiscono l'ostacolo attraverso la porta e si procura a destra la diffrazione le onde che aggirano all'ostacolo qui vedete che con questi due misuratori possiamo vedere che abbiamo ampiezze diverse in punti diversi ma entrambi oscillano d'accordo sono punti nella stessa fase dove c'è il massimo di uno ma c'è il massimo dell'altro e viceversa quindi vedete che i punti oscillano in fase proprio per il fenomeno della diffrazione in conseguenza o in coerenza se preferite col principio di Huygens ok se poi metto due fenditure le metto ad esempio abbastanza piccoline c'è il foro è piccolo l'effetto è più intenso allora avrò in posizioni diverse punti dove ho i massimi e punti dove ho dei minimi cioè dove l'ampiezza del moto è grande o altri dove il moto è piccolo e questo ovviamente dipende dalla lunghezza d'onda o dalla frequenza quindi questo misurare dove ci sono i massimi e i minimi mi è utile per risalire a qual è la frequenza o se preferite la lunghezza d'onda della radiazione incidente di quella della luce che arriva dalle due fenditure vediamo se possiamo vedere la fine del filmato ecco qui analogamente se ho quello della porta se le dimensioni della porta sono molto piccole invece che la porta abbiamo una fenditura la diffrazione fa sì che la luce possa aggirare l'ostacolo e anziché vedere una nombra netta vedo anelli chiari scuri qui ho lo schermo qui quel forellino nello schermo vedo non l'immagine netta del cerchietto ma vedo luce monocromatica in questo caso verde vedo una zona chiara centrale che è il massimo centrale e poi vedo zone scure e zone chiare questi sono anelli di diffrazione proprio legati al fatto che la luce può aggirare gli ostacoli quindi produrrà a seconda della fase con cui arriva sullo schermo oggetti in chiari o scuri ok questo è l'effetto di diffrazione appunto ok qui beh qui si ripete quanto abbiamo appena detto cioè quali sono le condizioni affinché avvenga l'interferenza costruttiva o distruttiva l'interferenza costruttiva se la differenza di cammino ottico è di n volte lambda o di distruttiva se è un multiplo disperi di mezze lunghezze d'onda in in caso nel caso semplice in cui la distanza tra i due schermi tra le fenditure e lo schermo sia molto grande allora posso immaginare R1 e R2 come paralleli e quindi la distanza tra i due cammini ottici è questa delta L che vale D distanza tra le fenditure diviso per il il seno dell'angolo teta che i raggi diffusi formano con l'orizzontale quindi ecco in questo caso abbiamo appunto le posizioni dei massimi e dei minimi ok quindi ho interferenza costruttiva se ho di volte il seno di teta uguale a n volte lambda qui abbiamo anche l'esempio in cui quello che osserviamo nel caso di più fenditure inziché averne due o tre o via o così via insomma queste sì i massimi in quel caso si rinforzano anche a seconda delle direzioni ovviamente vediamo se riusciamo a finire magari velocemente poi quindi questo usato l'esperimento di Young che mette in luce mette in evidenza le proprietà ondulatorie della luce pone però un enorme problema che abbiamo visto che nel suono quello che oscilla sono le posizioni o la densità se preferite delle molecole d'aria nell'aria che ci propaga il suono ma se parliamo della luce che cos'è che oscilla che cos'è che si propaga qual è la cosa che viene perturbata dalla luce in quanto onda rispondere a questa domanda è necessario aspettare l'anno prossimo quando faremo la teoria dell'elettromagnetismo in particolare il lavoro di Maxwell sulla teoria elettromagnetica ok sono le 12 57 quasi quasi mi fermo qui e concludiamo la volta prossima per non portare via troppo tempo un po' questa personale è ok